La forma della vita cristiana è sempre in qualche modo paradossale perché noi che siamo miseri che però diventiamo oggetto della misericordia di Dio, noi che siamo peccatori, che siamo chiamati alla santità e poi appunto chi vuole regnare è chiamato a servire, chi è grande si fa piccolo e la prova è che le cose stanno proprio così, cioè non sono lineari come le pensa il mondo dopo il peccato originale ma sono paradossali, è proprio Gesù che non è che parla e poi fa qualcos'altro ma lui stesso nel bellissimo passo della lettera ai filippesi è proprio, è stato umiliato fino alla morte di Croce ma proprio così è stato dato il nome che ha il di sopra di ogni altro nome e qui in tanti modi voglio dire che c'è qualcosa sempre di sorprendente e la sorpresa di oggi dopo tanti inviti soprattutto all'umiltà è che quest'uomo qui dopo aver sentito Gesù è proprio attratto da Gesù, sente che c'è qualcosa di grande tanto che gli dice ma veramente ma beato chi prenderà cibo nel regno di Dio ma Gesù gli rispose e racconta la parabola degli invitati a nozze fin da subito diciamo ecco l'invito di Gesù è un invito pratico guardate che non è un problema teorico guardate che è un problema di vigilanza pratica guardate che è non sapere che c'è un invito a nozze ma lasciarsi invitare e andarci proprio e non chi dice Signore, Signore ma chi fa la volontà del Padre mio chi unisce preghiere e carità insistenza un po' di tutti i documenti anche del Papa in questi tempi se noi in qualche modo rimaniamo squilibrati ma avvicinandoci proprio al tenore di questa pagina veramente si vede il desiderio di Dio che si confronta con il nostro desiderio di bene il desiderio di Dio è proprio grande è quello di invitarci a un banchetto nuziale cioè una pienezza d'amore gustosa e questo desiderio lo si vede proprio anche nel fare molti inviti e poi dire agli invitati venite tutto è pronto dopodiché la scena ci fa vedere che tutti gli invitati uno ad uno rifiutano l'invito perché pensano di avere qualcosa di meglio capite? neanche un banchetto a nozze risulta convincente rispetto a un campo a cinque paia di buoi non lo potrebbe dire all'essersi sposato ma un matrimonio sta in piedi se c'è Dio in mezzo se c'è Gesù è Gesù lo sposo è la Chiesa la sposa se due provano ad amarsi per conto proprio non ci riusciranno lo spettacolo della società di oggi ce lo fa vedere impietosamente cioè rifiutare il banchetto a nozze di Dio ci attira dentro tante di quelle sciagure ci fa uscire dal nostro destino il nostro destino è un destino ma molto bello ma molto molto bello è veramente un suicidio organizzato rifiutare quel banchetto a nozze ora la cosa ancora più sorprendente è che Dio non si lascia mortificare ci rimane malissimo lo si vedrà proprio nel volto crocifisso di Gesù ucciso dai suoi cioè tradito da tutti ucciso proprio nell'ambito del suo popolo veramente le cose sono andate così cioè non è un raccontino che non parli della nostra realtà ma parla proprio della realtà la cosa sorprendente è che la misericordia di Dio non ha limiti che il suo desiderio di bene di amore per noi uomini è veramente molto grande e infatti dice apri gli inviti interessante poi San Paolo lo scriveremo in maniera spettacolare nella lettera ai Romani è proprio attraverso l'irrigidimento del popolo di Dio che i canali si sono aperti per tutto il mondo semplicemente per tutti cioè il Vangelo ha preso una destinazione universale dove possono entrare tutti la sottolineatura è così forte che anche quando il servo gli dice beh è stato fatto come hai detto ma c'è ancora posto allora ecco il signore il padrone dice a sé torna di nuovo sulle strade perché voglio che la mia casa si riempia vedi Dio non è che accorcia il braccino anzi un infinito amore un infinito dolore apre ancora di più capite perché il Papa dice continuamente guardate che una chiesa arroccata ho capito ti senti radito ti senti incompreso senti che la società è secolarizzata senti che i popoli di prima evangelizzazione si sono allontanati hanno dissacrato tutto il patrimonio di duemila anni di storia non essere troppo preoccupato nuova evangelizzazione allarga non stringere certo per gli invitati della prima ora è una tragedia perché poi dovranno dire per l'eternità abbiamo preferito un campo e quattro animali alle nozze dell'agnello a cui eravamo invitati come la sposa neanche solo come invitati capisci? perché fuori dalla parabola ogni ha tutta la chiesa ma nella chiesa ogni cristiano è chiamato ad essere la sposa di Cristo per entrare in un'alleanza con tutti quindi per fronte alla bellezza nel cuore di Dio c'è la tragedia del rifiutarlo e allora lasciamo che il Signore ci inviti interessante che la chiesa mette quel versetto lì per preparare l'Evangelo venite a me voi tutti che siete stanchi oppressi oppure sviati presi dai beni di questo mondo piaceri e dispiaceri qualunque cosa non vi succeda che piaceri e dispiaceri occupazioni preoccupazioni come sono solito dire vi allontanino da quell'invito d'amore Gesù venite è pronto venite a me anche se siete presi da molte cose io vi darò ristoro Signore facci comprendere che sei tu la nostra gioia che sei tu la nostra pace che nel fare la tua volontà è la nostra pace